Musica Mercoledì 12 aprile, San Giulio Papa è il 102esimo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 263 al termine il sole sorge del 6.31 tramonta le 19.53 la luna si leva alle 2.27 tramonta le 10.16 il doge Sebastiano Ziani abdica dalla sua carica verrà sempre ricordato per la pace di Venezia nella quale fu il testimone del ricomporsi delle lunghe lotte fra il Papa Alessandro III e Federico Barbarossa le previsioni per domani tempo instabile, perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto precipitazioni da sparse a diffuse anche carattere di rovescio o locale temporale che potranno interessare tutta la regione ma con quantitativi più rilevanti sulle zone montane e piede montane limite della neve in abbassamento fino a 1000-1200 metri temperatura in generale calo localmente anche sensibile la regione la regione Grazie a tutti.